Prima di iniziare a guardare il video, iscriviti al canale e metti mi piace. Nella serata del 4 gennaio, esplosioni risuonano nella Crimea temporaneamente occupata, segnando un audace attacco delle forze ucraine al posto di comando russo. I russi, nonostante la sorpresa dell'attacco, riportano l'efficacia della loro difesa aerea, mentre il comandante dell'Aeronautica Militare Ucraina, Nikolai Oleschuk, sottolinea l'impeccabile esecuzione dell'operazione da parte dei piloti e di tutto il personale coinvolto. Il Ministero della Menzogna della Federazione Russa afferma che i missili russi hanno colpito un bunker contenente nove generali delle Forze Armate dell'Ucraina, insieme al vice comandante in capo Valery Zaluzny, Dichiarazione immediatamente respinta dal comandante Oleschuk. Saluti provocatori Agli occupanti della Crimea emergono, con il riconoscimento dell'eroico contributo dei piloti e di coloro coinvolti nella pianificazione dell'operazione. Un residente locale testimonia un missile che vola vicino e mostra una colonna di fumo nel video del comandante, mentre l'aria russa non risponde alla minaccia. Un bersaglio russo viene abbattuto dall'alto secondo l'operatore, evidenziato da una nuvola di fumo nel cielo. Il comandante Oleschuk condivide uno screenshot dal canale Crimean Wind Telegram, locale filo ucraino, confermando che l'attacco è avvenuto vicino al villaggio di Uyutnoie, suscitando l'invio di ambulanze. L'ufficio del comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina rivela che i difensori ucraini hanno mirato al posto di comando delle forze di occupazione russe vicino a Sebastopoli, colpendo con precisione intorno alle 3 del pomeriggio. La tensione nella regione cresce mentre si svelano ulteriori dettagli dell'audace mossa ucraina.